Ah, qua c'è un'altra mitragliotta leggendaria no perchè sono dentro un palazzo c'è tutto l'incendente e ti vedo davanti a te Lea 700 e 30 tanni dentro me no? Lea vieni un attimo Lea se mi dico la sola io c'è una mitraglietta leggendaria Se non la vuoi non te la do Ok non la vuoi allora me la tengo Ero avvicina a te forse? Lea sono questo cespuglio mi vedi? Lea mi vedi sono questo cespuglio dietro di te questo leo Lea mi vedi sono qua Gato! La perca Perche Perche Lea sentemi dei a scart Lea sentemi dei lui carri Lea sentemi dei lui carri Lea sentemi dei loro carri E ti guarda i piedi Ma cosa è? c'è un amico che ti prende da dietro fammi fammi devi giungermi ancora c'è un amico che ti prendi oh aspettate mi raga aspettate mi sono dietro Matteo ma non farà ah cosa fai io uuuu ma non farà la nostra spara quella nemica a la 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ciao!